Le nostre cinque proposte per cambiare il mondo del lavoro con il governo Draghi. Patto per il lavoro, i lavoratori vanno accompagnati in questa difficile transizione, presi per mano in termini di sicurezza sociale, riformati e ricollocati. Patto con le imprese, protagoniste della trasformazione digitale ed ecologica per il nostro paese. Riformare radicalmente la pubblica amministrazione, che sarà chiamata ad attuare la gran parte del cambiamento del nostro paese. La regola sarà la semplificazione amministrativa, burocratica, aziendale del mondo del lavoro. I destinatari del cambiamento dovranno essere i giovani, con politiche attive mirate dalla formazione alla qualificazione al mondo del lavoro. Grazie. Grazie.